Devo ripetere che ogni ipotesi è prematura e in più sappiamo che spetta al Capo dello Stato il compito dopo essersi consultato con le autorità istituzionali e le forze politiche di individuare la strada. Quindi sarebbe particolarmente inopportuno che anche ove io avessi una chiarissima idea in testa la manifestanza di questa sera.